Forza Walter, dai, forza Walter, dai, 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 più forza in queste gambe. Forza, forza, vi dichiaro, finché è morte, adesso lo sposo, recupero. Ciao. Questa è la preparazione atletica del perfetto celebrante. Del perfetto celebrante. Va. Va. Prendi il bicchiere. Sarai il celebrante. Sarai il celebrante. Sarai il celebrante. Quando siete a casa e magari avete litigato e non riuscite a trovare le parole giuste, ecco le parole giuste che avete trovato oggi di fronte a noi, fate una cosa semplice, prendete una rosa e mettetela in un vaso e con questo gesto ricorderete le parole che vi siete scambiati oggi dinanzi a noi in questo momento importante per voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.